Siamo i gemellini, un moro e un biondo. E il biondo non l'aveva visto Marco. Facciamo vedere. Vedi? Eh sì. C'è il bastone. Lo togliamo. Vedi? Era incastronato il bastone. Ah, io ho visto il primo. Vedi? Questo è biondo. Questo è un biondino? Eh, lo vedi? Mi pare. Eh sì. Guardate, la perizia. Oggi Marco, c'è tre volte il culo. Franci, è un filmato che va su YouTube. Sì, è un finocchio. Un finocchio. Si sa che un finocchio. Franci, parliamo seriamente. Insomma, è una giornata micologica. Sei un finocchio. Potrei dire che sapevo. Attenzione al biondo. Moro e moro. Bello, tosto. Eh, pensi a Franci, stanotte, che ho ore e ore a pulire. Chiudiamo tutto, come se veniva di qua. Non possono passare. Non possono passare. Eh? Si è copiata questa, non è nostra. Vabbè, però è una cosa giusta. Va bene. Ehi a te. Ciao. A voi, da questi due bei funghetti.